Salve a tutti, in questo video voglio affrontare la seguente domanda. La Francia entrerà in guerra con la Russia in Ucraina? Davvero Macron invierà i propri soldati in Ucraina a sparare contro i soldati russi facendo così scoppiare la terza guerra mondiale o comunque accrescendo enormemente le probabilità che la terza guerra mondiale scoppi davvero a causa della internazionalizzazione della guerra? Come sempre leggerò un articolo che ho dedicato a questo argomento che ho pubblicato sul sito di cui sono direttore sicurezza internazionale.com colgo l'occasione per ringraziare tutti gli abbonati per una comunicazione di servizio e ricordo che la prossima diretta con gli abbonati di sicurezza internazionale.com si terrà il 27 marzo dalle 19 alle 20. Sicurezza internazionale.com è il sito di cui sono direttore e anche un quotidiano sulla politica internazionale il primo sito in italia per numero di articoli pubblicati sulla politica internazionale ne pubblichiamo oltre 400 al mese e ringrazio gli abbonati di sicurezza internazionale.com perché di fatto rendono possibili questi video che sempre più si risolvono nella lettura di un articolo che ho pubblicato per sicurezza internazionale.com in questo caso l'articolo si intitola la francia entrerà in guerra con la russia prima però devo svolgere una premessa lo spunto di questo video è stato Salvini Salvini ha rivolto delle parole molto dure a Macron di recente ha detto Macron è un guerra fondaio rischia di farci cadere tutti nella terza guerra mondiale rappresenta Macron un grande pericolo per il nostro paese per l'Italia e per tutto il continente leggo le sue parole testuali Macron è un guerra fondaio con le sue parole rappresenta un pericolo per il nostro paese e per questo continente ora per poter rispondere alla domanda quello che sto per dirvi è molto importante per poter rispondere alla domanda che cosa farà Macron per poter in altre parole fare ragionamenti fare previsioni probabilistiche sulle scelte di Macron sulle scelte della nato della casa bianca del governo meloni è fondamentale comprendere quello che accade sul campo in altre parole la decisione di Macron è una variabile dipendente non è una variabile indipendente quello che Macron deciderà di fare in Ucraina dipende dalla variabile scontri sul campo quindi se il sistema dell'informazione in Italia è completamente corrotto e non copre più le notizie relative alle battaglie priva tutti noi degli strumenti per poter fare previsioni ragionamenti riflessioni lo ripeto perché è fondamentale comprendere questo punto se il sistema dell'informazione in Italia è completamente corrotto e copre gli scontri in Ucraina soltanto quando pensa che gli ucraini vinceranno ma non procura informazioni sugli scontri quando pensa che gli ucraini perderanno ecco questo sistema dell'informazione completamente corrotto priva i cittadini degli strumenti per poter immaginare il futuro perché le decisioni di Macron sono una variabile dipendente dagli scontri sul campo quindi se il sistema dell'informazione in Italia ha oscurato completamente le notizie che provengono dal fronte perché le cose per gli ucraini vanno malissimo il sistema dell'informazione in Italia ci priva della possibilità di comprendere quale sarà il nostro futuro di comprendere quali siano i rischi di precipitare tutti nella terza guerra mondiale quindi io su sicurezza internazionale punto com quello che faccio tra le tante cose scrivo moltissimo per sicurezza internazionale punto com e quello che facciamo è aggiornare continuamente sugli scontri aggiornare continuamente i lettori circa gli scontri sul campo è quello che farò anche in questo video e l'articolo che ho scritto si intitola la Francia entrerà in guerra con la Russia è molto grave che i cittadini italiani non vengano più aggiornati su ciò che accade al fronte in Ucraina ovviamente svolgerò questo aggiornamento nella prossima diretta con gli abbonati di sicurezza internazionale punto com il 27 marzo dalle 19 alle 20 come sempre accade inizierò la prossima diretta con un aggiornamento sui combattimenti in corso tuttavia è grave che i media italiani abbiano oscurato la questione è grave anche perché le mosse future della Francia e della Nato possono essere previste soltanto capendo l'evoluzione dei combattimenti al fronte la Francia sta preparando i francesi alla guerra con la Russia perché la situazione è molto grave per gli ucraini come avevo previsto nel primo giorno di guerra l'Ucraina si indebolisce con il passare dei giorni mentre la Russia si rafforza la mia tesi è che Macron abbia posto una linea rossa tutti i governi occidentali danno per certo che la Russia a un certo punto avrà preso tutto il Donbass il problema si porrà dopo la Nato fa tanta retorica ma sa benissimo che il discorso sulle cinque regioni occupate è chiuso come dimostra il fallimento colossale della controoffensiva Ucraina è soltanto questione di tempo Putin prenderà per intero ciò che ha già annesso il problema si porrà se Putin deciderà di andare oltre le cinque regioni annesse se Putin cercherà di conquistare anche Odessa la Francia valuterà di intervenire come ho spiegato a prima di domani alcune settimane fa mandando Guido Crosetto su tutte le furie la conquista di Odessa da parte dei russi sarebbe un rovescio molto grave per l'Occidente perché Odessa confina con un'area della Romania dove si trova una base importantissima della Nato a Costanza la linea rossa per l'Occidente è la parte più occidentale dell'Ucraina la Nato nel chiuso delle proprie stanze accetta che Putin prenda le cinque regioni note senza fare troppe storie vale a dire Crimea, Kherson, Zaporizia, Donetsk e Luansk quindi lo ripeto la Nato nel chiuso delle proprie stanze accetta che Putin prenda le cinque regioni citate senza fare troppe storie la Nato accetta anche che Putin prenda eventualmente anche Sumi e Kharkiv al confine con la Russia tuttavia la Nato non accetta che Putin possa spingersi troppo a ovest dunque che cosa accade sul campo questa è la seconda parte dell'articolo quindi nella prima parte dell'articolo ho cercato di spiegare che se noi vogliamo prevedere le decisioni dei nostri capi di stato dei nostri capi di governo e quindi avere la possibilità di contestarle prima che sia troppo tardi è necessario questo è quello che sostengo nella prima parte dell'articolo capire quello che sta accadendo sul campo adesso passo alla seconda parte dell'articolo in cui spiego cerco di spiegare in maniera molto sintetica ciò che sul campo sta accadendo per rendere il discorso fluido e semplice suggerisco di appuntare i nomi di quattro città io procedo in questo modo perché so con mio grandissimo onore che questo canale questi video sono seguiti anche da persone che non sono esperte di politica internazionale e quindi cerco di semplificare il discorso il più possibile per renderlo comprensibile a chiunque quindi il mio consiglio per seguire il dibattito è quello di appuntare quattro nomi i nomi di quattro città per rendere il discorso fluido e semplice suggerisco di appuntare i nomi di quattro città ciasi viar kostantinivka kramatorsk e sloviansk tutte nel donesk è prevedibile che i russi procederanno in questo modo nelle prossime settimane come è prevedibile che precederanno come è prevedibile che i russi procederanno nelle prossime settimane in primo luogo devono prendere ciasi viar che si trova su un'altura la conquista di ciasi viar è fondamentale per condurre l'assalto all'importantissima città di kostantinivka kostantinivka è importantissima perché costituisce uno dei tre bastioni difensivi del donbass una volta presa kostantinivka i russi dovranno prendere anche kramatorsk probabilmente la roccaforte più fortificata di tutte e sloviansk a quel punto putin avrà chiuso il discorso del donbass mentre scrivo i russi stanno travolgendo le linee difensive provvisorie degli ucraini che cosa sono queste linee provvisorie dopo la caduta di abdivka gli ucraini sono precipitati nel panico e hanno iniziato a costruire una linea di fortificazioni piuttosto improvvisata che include toninche e klishivka e berdisci e vari altri villaggi toninche e klishivka sono state prese negli ultimi giorni berdisci invece resiste estrenuamente e infligge perdite significative ai russi ma non credo che putin impiegherà troppo tempo per prendere anche berdisci gli ucraini stanno resistendo così duramente sulle linee provvisorie perché hanno bisogno di prendere tempo per fortificare per fortificare ulteriormente le linee difensive che contano davvero bisogna ricordare che gli ucraini fortificano kramatorsk dal 2014 zelensky da per scontato che putin arriverà kramatorsk quindi ogni giorno è utile per aumentare le sue fortificazioni non possiamo essere sicuri di quale percorso i russi seguiranno se punteranno su chassi viar e subito dopo su costantinivka oppure se faranno una manovra diversa per prendere sloviansk da un'altra direzione è possibile che muovano prima su chassi viar e poi verso costantinivka è possibile anche che scelgano di seguire altre direzioni per puntare prima verso altri centri resta il fatto questo non è poi così importante perché quello che è importante è che le città indicate sopra sono le città che putin deve conquistare il fatto che i media italiani abbiano smesso di occuparsi delle battaglie in ucraina è molto grave è molto grave quindi riassumo il mio pensiero noi gli media italiani essendo completamente corrotti operano per creare consensi intorno alle politiche di guerra della casa bianca in ucraina quindi l'informazione viene impostata per evitare che le persone si spaventino e qual è il modo migliore di evitare che le persone si spaventino non parlare di ciò che è spaventoso perché l'ucraina si trova in una condizione spaventosa perché la controffensiva ucraina è stato un fallimento spaventosamente grande perché le prospettive cui l'ucraina va incontro sono spaventose e quindi non bisogna spaventare i cittadini facendo comprendere loro che le politiche della nato in ucraina sono state un fallimento colossale perché hanno causato la distruzione di quel paese e ci stanno spingendo tutti verso la terza guerra mondiale nel momento in cui il sistema dell'informazione non copre più le battaglie sul campo che vanno malissimo per gli ucraini ecco che automaticamente coprono la variabile indipendente e se il sistema dell'informazione cancella la variabile indipendente io non posso più ragionare sulla variabile dipendente le scelte di macron in questo modo diventano incomprensibili inspiegabili appaiono irrazionali perché manca la base su cui quelle scelte poggiano manca la variabile indipendente che sono gli scontri sul campo perché quello che macron deciderà di fare dipenderà dal modo in cui andrà la guerra in ucraina ora se io vi dico che le cose in ucraina vanno malissimo e la televisione in italia il sistema dell'informazione le radio e diciamo così i cosiddetti media dominanti questo non lo dicono e c'è da preoccuparsi perché si creerà una situazione a un certo punto in cui i nostri decisori politici dovranno decidere se entrare direttamente in guerra con la russia oppure no e se questa decisione sarà presa noi non avremo il tempo di contestare le scelte del potere politico perché sarà troppo tardi perché non sappiamo niente di quello che accade sul campo non faremo in tempo non avremo il tempo di organizzare delle proteste non avremo il tempo di organizzare forme di opposizione questo è un grande problema in una società libera il fatto che l'italia sia una società libera o ambisca ad esserlo con un sistema dell'informazione così spaventosamente corrotto questo è un gran problema sapete che nel mio linguaggio io quando parlo di corruzione del sistema dell'informazione intendo dire che il sistema dell'informazione è compenetrato dal potere politico quindi sostanzialmente è completamente sottomesso al potere politico quindi l'informazione in italia è organizzata per compiacere il potere politico questo è un problema molto serio vorrei ringraziare tutti coloro che si sono iscritti a questo canale youtube e ricordo che questi video non hanno pubblicità per una mia scelta mi è stato offerto di introdurle quindi di monetizzare quindi di guadagnare con questi video ma io ho detto di no perché questo canale nasce per restituire un po dell'affetto che ricevo dalle tante persone che mi scrivono lettere di affetto di solidarietà di stima io sono molto grato di tutto questo e ringrazio con tutto il cuore gli abbonati di sicurezza internazionale punto com che hanno reso possibile il mio sogno di creare in italia un quotidiano sulla politica internazionale sicurezza internazionale punto com mi piace ripeterlo non ha pubblicità e non riceve finanziamenti esterni ci basiamo soltanto sugli abbonamenti perché questo ci sembra il modo migliore di difendere la nostra autonomia la nostra indipendenza e questo aiuta a comprendere quanto siano importanti per noi gli abbonati e sono tutto perché ci basiamo soltanto sugli abbonamenti va bene vi ringrazio molto e a presto soltanto sugli abbonamenti va bene vi ringrazio molto e a presto